musica 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 dove sto? a saccio un cazzo io mi sono perso si ho capito che sali ma il punto è dove cazzo stiamo? so tre ore a girare il voto aglio chiesti anche i vigili ma non ho fatto anche in appunto va venimo qua che ci studiamo in due che non capisco non è che hai un paio di dati per caso a un mese dall'inaugurazione le statistiche arbuttono difatti il 40% degli scala mobilisti si è perso il 18% invece purtroppo non siamo stati cazzo da altro valli l'altro 42 dica pure come me ci ha ingulati una volta e non ci ingulli più sicuro e mettetecelo un cartello nuove scale mobile posterna se le conosci le eviti ma a che cazzo servono? no 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 no